Se stai cercando una casa indipendente a qualche chilometro da Faenza ma nella tranquillità più assoluta con 5.000 metri di giardino privato, due servizi e... beh, sentite che pace! Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa casa indipendente in vendita! Come vedete è una tipica casa colonica, anzi c'è una targa che cita l'anno 1946, quindi probabilmente post bellica ed è ben disposta perché al piano terra troviamo soggiorno grande col camino, sala da pranzo con camino e cucina enorme oltre a una grandissima stalla tipica delle case coloniche. Al piano primo troviamo il bagno e ben 5 camere da letto. La casa ha subito vari ammodernamenti, infatti il tetto è stato rifatto. L'impianto di riscaldamento è presente con riscaldamento a GPL, la caldaia in bagno, i tubi sono in rame. È una casa che si può già abitare. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!